La regolamentazione dell'intelligenza artificiale è una grande sfida per l'Europa perché ha al centro questioni fondamentali, il rapporto fra libertà e individui, la possibilità di avere una democratizzazione delle tecnologie, la possibilità di governare le grandi trasformazioni. È importante lavorare affinché l'essere umano sia al centro davvero e quindi arrivare a soluzioni che permettano lo sviluppo dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale a livello europeo per competere e allo stesso tempo tutelare i diritti fondamentali, i rischi che esistono per tecnologie dove discriminazioni, uso di dati in maniera impropria è all'ordine del giorno se non ci sono regole adeguate. Noi lavoreremo per dare risposte a queste questioni.